John Fitzgerald Kennedy, noto anche come JFK o con il diminutivo Jack, è stato un politico statunitense e il trenticinquesimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1961 al 1963. Nato nel 1917 a Brooklyn, Massachusetts, Kennedy proveniva da una famiglia influente di origine irlandese e si laureò all'Università di Harvard nel 1937. Ecco alcuni punti chiave sul suo pensiero politico, Nuova Frontiera, Kennedy aveva obiettivi presidenziali ambiziosi. Le sue politiche interne ed estere combinate erano conosciute con il termine Nuova Frontiera. Voleva finanziare programmi sociali in materia di istruzione, alloggio e assistenza medica per gli anziani.Progresso civile e tecnologico, Kennedy parlava di progresso civile e tecnologico e sfidava il popolo americano a costruire una società migliore, con lo stesso spirito di sacrificio dei pionieri che avevano rinunciato alle comodità e alla sicurezza per costruire una nazione migliore. Crisi dei missili cubani durante la sua presidenza, Kennedy affrontò l'asterisco crisi missilistica di Cuba, una delle situazioni più tese della Guerra Fredda. La sua leadership durante questa crisi fu cruciale per evitare un conflitto nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, assassino. Purtroppo, la sua presidenza fu interrotta dall'assassinio a Dallas nel 1963 Kennedy rimane una figura, di grande importanza nella storia americana, sia per le sue politiche che per la sua tragica fine John Fitzgerald Kennedy, forse il presidente più amato della storia degli Stati Uniti America. È il protagonista di un libro particolarmente interessante intitolato John F. Kennedy. Il nuovo sogno americano, questo libro racconta con dovizia di particolari la vicenda umana politica di JFK, che purtroppo si conclude tragicamente ad Allas il 22 novembre del 1963. JFK, con i suoi 46 anni al momento dell'assassinio, incarna un nuovo modo di fare politica. Oratore affascinante e progressista, lancia negli USA il messaggio della nuova frontiera. Questo programma includeva proposte come l'intervento pubblico in economia per sostenere l'occupazione, sussidi di disoccupazione, la lotta alle diseguaglianze e alle discriminazioni razziali. La sua elezione è legata anche al sostegno della comunità afroamericana, con circa il 70% dei voti provenienti da questa comunità. La questione dei diritti civili delle persone di colore entra prepotentemente nell'agenda di JFK, che si sforza persino di far liberare Martin Luther King quando viene arrestato durante una manifestazione di protesta. Durante il suo discorso di insediamento, tenutosi il 20 gennaio 1961, Kennedy pronuncia la celebre frase, Il suo carisma e il sogno americano che rappresentava, con l'idea di una democrazia partecipata ed estesa a tutte le fasce di popolazione, continuano a ispirare ancora oggi. La commissione Warren ufficialmente nota come commissione presidenziale sull'assassinio del presidente Kennedy, fu istituita nel 1963 per indagare sull'omicidio di JFK. La sua relazione finale, pubblicata nel settembre 1964, concluse che Lee Harvey Oswald agida solo nell'uccisione del presidente. Tuttavia, la commissione Warren è stata oggetto di critiche e controversie nel corso degli anni. Alcuni punti di discussione riguardanti l'indagine della commissione Warren includono rapporto singolo o complotto. Molti ritengono che la teoria del cecchino solitario sia troppo semplicistica e che potrebbero essere stati coinvolti altri individui o organizzazioni. Questo ha portato a teorie del complotto che suggeriscono un coinvolgimento più ampio. Prove mancanti o nascoste. Alcuni critici sostengono che la commissione Warren non abbia esaminato a fondo tutte le prove disponibili o che alcune prove siano state nascoste. Ad esempio, la questione delle registrazioni acustiche dei colpi di arma da fuoco è stata oggetto di dibattito. Coinvolgimento di agenzie di intelligence. Alcuni credono che agenzie di intelligence come la CIA o il FBI abbiano avuto un ruolo nell'assassinio di JFK. Queste teorie si basano su presunti legami di Oswald con queste agenzie o su possibili motivazioni politiche. Punto in sintesi. L'indagine della commissione Warren è stata fondamentale per stabilire una narrazione ufficiale sull'assassinio di JFK, ma rimane oggetto di dibattito e speculazione. La verità completa potrebbe non essere mai completamente nota.